Soltanto nelle Marche ne soffrono circa 30.000 persone, 9 su 10 delle quali sono donne. Le si è dato un nome, fibromialgia, non le si è dato ancora un riconoscimento come malattia invalidante. Una dignità del malato per la quale si batte le ali di Hauser, associazione di recente costituzione che dal 12 maggio scorso, giornata nazionale della fibromialgia, ha portato avanti una pluralità di azioni partecipando ai tavoli in regione utili al processo di riconoscimento della malattia. Le ali di Hauser ha però anche avviato una serie di percorsi di sostegno alla gestione del dolore dei fibromialgici di Pesaro trattando la patologia con il sostegno di medici, psicoterapeuti ma anche esperti di yoga, rilassamento muscolare, musicoterapia e aromaterapia. Un'associazione che si presenterà assieme a tutti i soggetti coinvolti sabato 18 novembre alle 11.30 nella sala del Consiglio Comunale di Pesaro. Fondantemente nel dolore, ecco questa è la fibromialgia, non sai il motivo perché potresti star bene poi tutto ad un tratto la luce del sole potrebbe diventarti il tuo peggior nemico non riesci improvvisamente a camminare, hai dei dolori rancinanti, la contrattura di tutti i muscoli dall'attacchicardia all'insonnia, più di 30.000 casi che accertati nelle marche e molte ancora la vivono nella vergogna quindi è una malattia subdola di cui difficilmente se ne parla. Le ali di Hauser oggi è nei tavoli di lavoro in Regione per il riconoscimento della fibromialgia. Si sa che è una patologia che va affrontata in maniera multidisciplinare dal neurologo allo psicologo, dei percorsi studiati veramente su misura perché questa patologia ha più gradi di invalidità quindi bisogna fare molta attenzione ci vuole molta formazione, formazione dei medici di base formazione anche nei confronti della famiglia che ha un paziente fibromialgico in casa è una patologia che poi si trasmette io ce l'ho da 37 anni, mia figlia sono 5 anni che l'è stata diagnosticata. C'è bisogno di sensibilizzare sia le persone ma soprattutto le istituzioni e noi con la costituzione di un circolo iscritto a RUNS quindi riconosciuto giuridicamente sulla nuova normativa del terzo settore vogliamo dare un contributo anche istituzionale quindi coinvolgere le amministrazioni a tutti i livelli per poter definire quello che è un riconoscimento di diritto di queste persone ad avere intanto una dignità sia morale che economica quindi cercare di trovare il modo di farla riconoscere come malattia invalidante perché questo è, purtroppo non si guarisce e allo stesso tempo dare una mano alle persone che hanno la problematica per superare quei momenti di sconforto e di difficoltà che hanno con tutti i mezzi che Hauser Hauser lavora per i fragili e quindi dal trasporto sociale e quello che può essere l'organizzazione di attività che possono lenire il problema noi vorremmo mettere in campo tutte queste coste e competenze che abbiamo. Grazie